I malati, i dottori, le procedure, le medicine, le attrezzature sono uguali, quindi distinguere come spesso si fa tra privato e pubblico, se si parla di economia, di organizzazione aziendale è del tutto legittimo, ma se si parla di pazienti, qual è la differenza? Le cliniche private offrono posti letto per far così fronte all'emergenza coronavirus, in provincia di Arezzo a dare piena disponibilità alla regione, adesso è il centro chirurgico toscano. Queste cosa sono? La rianimazione, sono due stanze, due lettini, due stanze di rianimazione. Si tratta dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva, oltre che quelli dedicati alla medicina interna, 122 in tutto quelli messi a disposizione nelle varie strutture toscane dall'associazione ospitalità privata, tra questi anche quelli della struttura retina. Mi sembra un dovere contribuire per quello che possiamo, per quello che siamo capaci a questo momento critico, quindi noi abbiamo la possibilità di mettere a disposizione oggi, 9 di marzo, due letti di rianimazione, uno è questo e un altro qui accanto. Tra 48 ore, cioè da mercoledì, avremo la possibilità di disporre di altri due letti di rianimazione, perché la sala operatoria qui è adiacente e può essere utilizzata come sala di rianimazione. Un contributo fondamentale per fronteggiare in questo momento l'emergenza causata dal Covid-19. Nelle regioni già ampiamente colpite, i numeri e le letti di terapia intensiva, rianimazione è la stessa cosa, della sanità pubblica non bastano e quindi quelli che ci sono, che siano pubblici o privati, devono essere obbligatoriamente, ma ovviamente utilizzati e addirittura, come dicevo prima, se ne devono possibilmente creare altri nel più breve tempo possibile.